Tipico giapponese, katsu. Ingredienti, maiale, uovo, farina, panco, limone, cavolo bianco, salsato tonkatsu e senape. Disegno. Tonkatsu. È bellissimo. Questo è il tipico impanato fritto giapponese, utilizzando tonk e maiale e katsu, impanato fritto. Impaniamo con pane grattugiato giapponese, si chiama panco. Sarà croccantissimo e succoso. Ecco, maiale, bracciolo di maiale, senza ossa. In questo caso io ho eliminato la ossa, perché quella parte è molto molto buona, perché c'è grasso. Eh sì, infatti i giapponesi stranamente piace anche grasso. Quindi questa volta io vorrei presentare l'impanato fritto, famosissimo e conosciuto tonkatsu. Tonkatsu, maiale, ton, maiale e katsu, impanato fritto. Classico, impanato fritto, molto semplice, classico. Quindi, pane grattugiato e uova e la farina. Prima di impanare ingredienti, a me, io sono così, come posso dire, io sono gorroso, quindi io vorrei condire fetta di maiale. Tutti e due rati. Ora, come volete, io preferisco sempre più saporito. Durante la cottura, perché il sale è chiamato un pochino di saperità, quindi io condisco sempre prima di cottura. E uovo, spacchiamo l'uovo. Allora, prendo la cenella così. Mo' direttamente mettiamo dentro. Sì, infatti, questa impanatura, già conoscetelo, sì, ma già ci conosciamo molto bene. Questo impanato fritto, questa storia è, arriva da grande amicizia, quando, epoca Edo, 1600, 1700, 1800. Quello momento abbiamo fatto grande amicizia con gli europei. Quindi, è arrivata questa tecnica, frittura, impanatura. Da dove è entrata questa frittura? Che è arrivata, è entrata da Kyushu, l'ultimo pezzo di Giappone, sud. Perché, epoca, era questa entrata di commercio internazionale. Quindi, l'europea arrivava sempre, entrava da Kyushu e poi arrivava fino a capitale di Tokyo. In questo caso, noi stiamo presentando la ricetta molto popolare in Giappone. Detto ciò, infariniamo il classico. Infarinatura. Non serve tanta quantità di farina e quindi infarinate leggermente, addirittura Milano, no? Cotoletta milanese, senza infarinatura, ma direttamente uovo e poi impanatura. In questo caso, tradizionale giapponese, classico, infarinatura, poca quantità di infarinatura. Intingele nel uovo intero sbattuto. E poi, panko. Panko che cos'è? Sì, pane grattugiato giapponese. Utilizzando pancare. Anche questo è interessante, no? Giapponese, pancare. Anche interessante. Quello anche, stesso momento, no? Epoca edo. Rinascimento, rinascimento giapponese. Fatto grande amicizia, propria amicizia a tutto il mondo. Diventato paese internazionale. Quello momento è arrivato anche panificazione. È arrivato, inizio, grande amicizia con Inghilterra. Quindi, pancare. Quindi, pane grattugiato giapponese, molto standard, sempre utilizzando questo pancare. Quindi, molto friabile e croccante. I giapponesi piace, no? Sto friabilità e la croccantezza. Ok, allora, impaniamo. Impaniamo bene. Ovviamente, attacchiamo bene. E poi, impanatura è finita. Pronto. Quindi, togliamo questo. Ok, allora, impanatura è pronta. Questo, io frigo solo una fetta a questo momento, eh. Utilizziamo prossima ricetta. Quindi, tengo una fetta di maiale impanato. Là. E poi, cominciamo a friggere. Ma la temperatura, vorrei sapere la temperatura. Io sono molto analogico, quindi io sempre seguo il consiglio di mia nonna. Vediamo la temperatura. Sì, più o meno adesso la temperatura perfetta. 170 gradi. In questo caso, non deve avere la temperatura alta, alta. Perché, avete visto, no? La fetta di maiale è tagliata così grosso. Quindi, ci vuole un po' di cottura. Quindi, non alzate troppo temperatura alta, eh. Mettiamo dentro. E poi, cominciamo a friggere. In questo caso, questo spessore, ci vuole, forse, secondo me, ci vuole un minimo 5 minuti. Quindi, lasciamo così com'è. Leggermente alzo un po' la temperatura. Nel frattempo, io vorrei creare, presentare un pochino di accompagnamento classico, molto semplice. Capro bianco. Capro bianco tagliato a fette sottili. Non serve tanta quantità. Questo è solo per pulire la bocca. Sì, è interessante, no? Quello momento, quando ho cominciato a friggere, la frittura, ho cominciato a mangiare il giapponese, ho cominciato a mangiare anche animali. Quando ho cominciato a mangiare carne, non c'erano tantissimi ingredienti, specialmente la verdura. Capro, è arrivato anche da Europa. E quindi, in quel momento, il capro bianco era molto, molto grande novità. La verdura esotica. Quindi, la frittura, accompagnare con il capro bianco, è molto interessante. Ok, allora, tagliato a julienne finissimamente. Ovviamente, non bisogna condire niente, perché accompagniamo, l'ultimo gran finale, accompagniamo un pochino di salsa tonkatsu. Quindi, in salata così, va benissimo. Allora, teniamo dentro bacinella. Ok, allora, anche preparazione di insalata è pronta. Non toccate inizio assolutamente quando tocchi gli ingredienti, sempre inizio la pastella morbida, impannatura anche morbida, quindi perderanno tutto. Quindi, inizio non toccate, toccate. Vediamo solo una volta. Giriamo, vediamo. Ancora ci vuole un po' di cottura. Io arzerò leggermente la temperatura e poi ci vediamo fra tre minuti. Ecco, sono tornato. Guarda, che bella doratura. Non vedo ora, eh. Allora, vediamo, 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 vediamo. Ecco qua, croccantezza. Mamma mia, perfetto. Scoliamo bene, questo momento scoliamo bene, così, meno grasso, no? Ok, scolato molto bene e poi mettiamo solo la carta da cucina. E poi, in questo momento, condiamo un pizzico di sale. Abbiamo condito inizio, eh, quindi non serve tanta quantità, poca quantità va benissimo. Un pizzico di sale. Voglio tagliare, vogliamo vedere, no? Dentro. Volente, eh. Tagliamo le fette. Così, taglio così, allora. Grossoranamente. Mamma mia, sentite questo. Crac, 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 crac. Beh, che devo dire? La cottura perfetta, succoso e croccante. Allora, quasi, quasi, in piatto. Ecco. Prendo il piatto. Due piatti. Allora, questo piatto mettiamo. Abbiamo preparato questo capro bianco tagliato a julienne. Un accompagnamento perfetto. E poi, ovviamente, appoggiamo. E' la nostra creazione di tonkatsu. Ecco qua, dai. Via. Beh, abbondante. La salsa. Questa è la salsa tonkatsu. In Giappone, dal 1900, producono la salsa esattamente per tonkatsu. Impanato fritto, katsu. La salsa già c'è. Questa salsa di tonkatsu, fatta a base di salsa di soia. Ovviamente c'è dentro salsa di soia, condimento giapponese, con tantissima frutta. Interessante, no? La frutta, pomodoro, per esempio, la cipolla e riduzione. E qui è questa, la salsa. Mettiamo, versiamo la salsa. Beh. Accompagniamo un po' di senape. Anche senape, interessante questo. E grande amicizia con lo europeo. Quindi, un pochino di senape. Non serve tanta quantità, poca quantità, va benissimo. Accompagniamo il senape. Un tocco di piccantezza. Accompagniamo fetta di limone. E poi, beh. E piatto pronto. Tonkatsu, già conoscete, no? Questo ha forse tantissime persone già assaggiato. Quando stavate in Giappone, viaggiate in Giappone, già assaggiate questo cotoletta. Molto semplice, impanatura classica, tradizionale. E fuliggere con temperatura bassa, lungo tempo di cottura. Accompagnato semplice con la salsa tipica, salsa tonkatsu. Sono contentissimo. Seconda ricetta, utilizzando tonkatsu. Vorrei presentare una ricetta bellissima, questo. è katsu tonkatsu. Ingredienti. Magliare, cipollotti, uova, shichimi, zucchero, salsa di soia, mirin, dashi, brodo giapponese e riso cotto giapponese. Disegno. Katsu tonkatsu è ovviamente, già abbiamo fatto, no? Bellissimo impanato fritto. Questa volta io vorrei mettere riso in bianco. Frittata di uova. Dentro cosa c'è? Sì, abbiamo fatto tonkatsu. Magliare, impanato fritto. E piatto di street food. Quando ero giovane mangiavo, a volontà, grande piatto di street food giapponese. Prima cosa da fare, sì, magliare. Abbiamo presentato già l'impanatura, come ho fatto con la farina, passano uova, l'impanatura con il panco e il pane grattugiato giapponese. Adesso vorrei friggere. Vediamo la temperatura. Qua già sta arrivando. Vediamo la temperatura. Ancora bassino, un pochino di temperatura. Quando arriva la temperatura, mettiamo dentro. Nel frattempo, io vorrei tagliare anche i cipollotti. Beh. Cipollotti molto interessanti, ma non è la verità cipollotti, cipollotti. In Giappone è molto presente questo pollo, tipo pollo piccolino, sottili. Si chiama neghi. Quello noi utilizziamo spesso. In Italia trova facilmente cipollotti, quindi io scelgo spesso anche cipollotti. Detto ciò, tagliamo un pochino così, sia parte, come posso dire, cicciottello, no? Parte cicciottello e anche sia parte, questa parte a me piace molto, perché peccato da buttare questa parte. Tagliamo a fette. In questo caso io sto tagliando un po' diagonalmente. Mettiamo così anche fino a... Così, preparazione di cipollotto è pronta. Quindi la mettiamo là. Teniamo così cipollotto. E poi, uova. Prendo la bacinella. E poi spacco la uova. Interessante, no? In questo caso anche noi vorrei creare, si chiama katsu don. Katsu è ovviamente impanato fritto. Don, donburi. Viene da parole donburi, don. Che è accompagnato con riso in bianco cotto a vapore, no? Tecnica giapponese. Tipico piatto unico di pranzo della cucina giapponese. Quello è anche nato, questo donburi, stile molto stritto, no? Street food. È nato da Epocheto. Epocheto è nato tantissime ricette della cucina giapponese di adesso. In quel momento nascono tantissime, per esempio, sushi. Per esempio, la tempura e la pasta giapponese famosissima di grano saraceno sova. Ok, allora, uovo. Preparazione è pronta. Temperatura è arrivata, quindi, ovviamente, io vorrei mettere dentro. Ecco qua. Attenzione che la temperatura non deve essere alta, alta temperatura, perché ci vuole la cottura, minimo 5 minuti di cottura. Quindi non alzate 170 gradi su, perché la crosta deve essere ben dorato, croccante. Ovviamente anche il maiale deve essere cotto. Nel frattempo, avete già visto, no? Un pochino strano, strumenti. Questo è, si chiama la pentola, ovviamente è una pentola tradizionale giapponese, si chiama yukihira. Questa è elaborazione, ovviamente, di dacciaio, battendo, battendo con le mani, mano, mano, mano. Artigianale, manico di legno, quello è il tipico stile della cucina giapponese. Un altro strumento, eccolo qua, questo è interessante. Strano manico, eh, questo? Si chiama questo donburi nabe, e quindi, realizzato questa pentola, solo per realizzare questo donburi, street food giapponese, interessante, bello, monoporzione, così grandezza, noi curiamo adesso, monoporzione, una porzione. Aggiungiamo allora ingredienti, brodo giapponese, quindi abbiamo preparato, mi ho già presentato tantissime volte, e quindi io ho già portato avanti. Brodo giapponese, si chiama dashi, è fatta con aruga kombu e katsubushi, portato a bollore, e poi lasciato diposare per 10 minuti, e poi fritturato, così, dashi, brodo giapponese, pronto. Aggiungo il brodo. Beh. E poi condiamo con salsa di soia. E mirin. Mirin è conoscete, no? Il sake dolce, è fatto di riso. E portiamo a bollore. Mettiamo massima potenza, portiamo a bollore. E abbiamo preparato cipollotto tagliato a fettine. Già sta arrivando a bollore, avete visto, molto molto veloce. Quindi già giustiamo la temperatura. Oggi portiamo la cottura. Ok, controlliamo il nostro godurioso. Tonkatsu. Tonkatsu. Vediamo un po'. Vabbè. Già sta arrivando bella doratura. Giriamo solo una volta sopra e sotto. Allora, tonkatsu ci vuole forse ancora tre minuti di cottura. E poi la nostra preparazione di brodo condita con salsa di soia. Mirin, questo è a base di donburi. Ci vorrà anche tre e quattro minuti di cottura. Quindi ci vediamo fra tre minuti. Ecco. La cottura di maiaresi, infatti, è croccante e ben dorato. Ma incredibile, a me piace molto. Sì, infatti è anche molto interessante che, ovviamente, ci fa anche di manzo, anche di pollo, qualsiasi varietà di impanatura. Si fa qualsiasi carne, qualsiasi pesce, anche si utilizza. In questo caso stiamo presentando di maiaresi, perché maiaresi è anche grande produzione di città, Kyushu, grande produzione di maiaresi. Un po', metà cinghiare e metà maiaresi. Ancora già esiste, buonissimo. Quindi ho scelto, ovviamente, maiaresi di tonkatsu. Ok, allora sempre, come di solito, scorata molto bene l'impanatura. E aggiungiamo un pochino un pochino di sale. E vorrei tagliare un'altra ricetta, come è un'altra ricetta, no? Vorrei tagliare a fette. Ecco qua. Allora, è già buonissimo, eh? Ok, allora taglio, come di solito, circa un centimetro di spessore. Mamma mia, come una musica, no? Crac, 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 crac. Ok, allora vediamo anche la cottura. Va, è succoso e croccante, croccante. Quello viene da, difeso, da impanatura. L'impanatura mantiene l'umidità degli ingredienti. Quindi, impanato fritto, tengono, mantengono tutta l'umidità e il succo. Quindi diventa croccante, interno, soffice e molto. Questa è una magia, ma la frittura è grande tecnica. Detto già, questo, questa pentola è via, finito. Allora, teniamo questo. Abbiamo fatto un pochino di cottura, perché ci vorrebbero ancora cottare cipollotti specialmente. Allora, grandezza più o meno così, quindi io scelgo centolare. Inserire dentro. Eeeh, interessante, no? Sì, infatti, impanato fritto. Prima rigetta protagonista è la sua croccantezza. Invece, in questo caso, impanato fritto e poi aggiunto dentro condimenti. Eeeh, nostro amico, anche Bito, no? Famiglia, Emilia Romani. Emilia Romani ci fa, come si chiama, la cotoletta al bolognese. Di solito anche cotto dentro il vino, brodo, magari brodo e con un formaggio. Più o meno simile, impanato fritto e poi insaporito con condimenti. Abbiamo preparato l'uovo intero sbattuto. Versare intorno di ingredienti. Sì, quindi una ricetta più o meno, una ricetta di frittata, diciamo così. Frittata molto saporita accompagnata con il riso bianco. Quello è tipico della cucina giapponese street food, donburi, stile di donburi. Allora, piano piano coaguliamo. E infatti, quindi, stiamo capendo adesso perché questa pentola si chiama donburi nave. Questa forma, questo stile. Perché è molto facile da lavorare per realizzare questa ricetta. Quindi è una forma un po' particolare, questo rano, no? Però questa forma è molto, molto ottimizza la cottura. Bisogna coagulare ovviamente tutti i lati. Però frittata di uova deve essere sempre la cottura più o meno appena appena coagulata. Succoso. Questo rano cotto è asciutto, no? Quello è peccato. Quindi noi cerchiamo sempre l'uovo cotto appena appena coagulata. Allora spengo. Prendo il piatto. Beh, carino è questo. Questa ciotola. Questa è tipica. Prendo la forma anche rostire di donburi, con il coperchio ovviamente. E prendo il riso. In bianco cotto, classico, con acqua e riso. Ovviamente il riso bianco è caldo e quindi ho mantenuto la temperatura con questo, anche questo strumento è molto interessante, di legno. Mettiamo il riso. Bene. E poi, là sopra, io prendo un pochino di strumenti d'eccapentra. Beh. Qualcosa interessante, no? Ok. Allora, bersiamo sopra. Sì, infatti perfettamente su misura. E poi non manca mai, grande finitura, sette spezie giapponesi. Quello è da tocco di piccantezza, la grinta. Sette spezie giapponesi fatte con ovviamente base di peperoncino, aggiungendo tantissimi ingredienti, bucce di mandarino, semi di sesamo. Ci sono tantissime ricette tradizionali in Giappone. Beh. Che devo dire. Cotto retta di maiale, quindi impanato fritto. Tonkatsu, utilizzando due ricette base, uno croccante, uno molto saporito, stile di street food, Donburi. Non vedo ora di gustare questo piatto. Cotto retta di maiale, quindi non vedo ora di gustare questo piatto.